Diciamo la verità, la classifica del Foggia sorride grazie alle numerose vittorie conquistate, anche se con le big i satanelli non hanno mai brillato in questa stagione, fatta eccezione per il Bari di Euteri, che arrivò allo Zaccheria con la pancia piena e forse con la superbia di una squadra che sapeva di essere superiore tecnicamente. Il Foggia, operaio, riuscì invece a smorzare gli entusiasmi dei biancorossi. Oggi però la situazione è diversa, perché vuoi per le assenze, vuoi per il terremoto tecnico delle scorse settimane, il Foggia sa che incontrerà un avversario diverso. D'altra parte i rossoneri stanno attraversando un momento no sul piano dei risultati, ma anche sul piano realizzativo, dato che Curcio e compagni non stanno segnando più come prima. È vero che dobbiamo considerare la caratura degli ultimi avversari e, se vogliamo, gli infortuni che hanno coinvolto Gavazzi e compagni, ma è anche vero che la comitiva di Marchionni sta perdendo un po' di spregiudicatezza. I calciatori sanno che i tifosi considerano quella del San Nicola la partita e che, se sono stati perdonati loro i passi falsi contro Catanzaro, Avellino e Ternana, un K.O. contro i rivali sportivi del Bari significherebbe mini-rottura. L'andata terminò 1-0 con la firma di Curcio, che trasformò un calcio di rigore. Marchionni sta lavorando in questi giorni proprio sulla testa dei suoi ragazzi. Negli ultime ore bocche cucite e concentrazione fino a sabato pomeriggio, quando a parlare sarà proprio il campo.